Nessun DEA di secondo livello in Abruzzo. Secondo una prima bozza sul riordino della rete ospedaliera, l'assessorato alla sanità e l'agenzia sanitaria regionale sembrano aver ufficialmente bocciato l'idea del super ospedale. Il DEA di secondo livello per l'appunto, cioè un ospedale sede di discipline di riferimento per le reti delle patologie complesse e che ha funzione di emergenza urgenza per il trattamento delle patologie acute ad alta complessità. In Abruzzo, si legge nella bozza, attualmente le discipline di alta specialità non sono allocate nella loro totalità della struttura fisica di un unico presidio. Pertanto, al fine di garantire le necessità assistenziali previste dai LEA, i livelli essenziali di assistenza, la qualifica di presidio ospedaliero di secondo livello è assolta dai presidi ospedalieri con funzione di hub per le specifiche reti tempo dipendenti. Dunque, se la bozza non subirà modifiche sostanziali, gli ospedali di L'Aquila e Pescara avranno funzioni di secondo livello per le reti stroke, politrauma e trauma maggiore, mentre quelli di Chieti e Teramo per le emergenze cardiovascolari. Oltre a questi, saranno ospedali DEA di primo livello anche i nostri comi di Avezzano, Lanciano e Vasto. È una rete ospedaliera, così come avevamo già stabilito e così come era stato programmato, che vede una rete che comprende gli ospedali hub e SPOC, in modo che ogni paziente possa avere quell'assistenza adeguata a seconda della patologia, dalla più complessa alla meno complessa. Ci saranno degli ospedali con delle vocazioni ma soprattutto non ci sarà più un bisogno di richieste fuori regione. Questo è importante perché andando a dare delle priorità e quindi definendo quelli che sono, diciamo, le strutture hub, sarà una situazione proprio completa di risposta ai nostri cittadini che vogliono curarsi nella nostra regione. Chiudiamo, parola fine su IDEA di secondo livello. Guardi, il termine IDEA di secondo livello si attribuisce a chi ha queste potenzialità. È un termine ormai superato, lo possiamo definire tanto perché si va verso una definizione del DM71. Quindi non è tanto la denominazione e quando i servizi, o meglio ancora, l'attività ospedaliera che viene svolta in queste strutture. Per quanto riguarda gli ospedali minori, 9 saranno sede di pronto soccorso, tra cui il San Massimo di Penne, riqualificato dopo il declassamento in ospedale di aria disagiata. Ma la bozza prevede il taglio dei posti letto di chirurgia, già sforbiciati in passato ed oggi ridotti soltanto a due diurni. Sempre nella bozza si legge che a livello empirico circa il 36% degli assistibili del bacino di riferimento di Penne si rivolgerebbe al pronto soccorso di Pescara, dove la capacità operativa in relazione ai posti letto disponibili è già ampiamente superata. E quindi questa riqualificazione sembrerebbe dettata più dal sovraccarico dell'ospedale Santo Spirito che dà la volontà di salvaguardare il San Massimo, nel quale medici ed operatori sanitari con grande spirito di abnegazione hanno lavorato duramente anche per scongiurarne la chiusura.